Ah, l'autunno, la mia stagione preferita. Cadono le foglie e si riapre il club della ragazza. Chissà. Oh, conosci le lingue anche tu, vedo. Pasqua, ho cominciato, la che ne diresti di andare a cena insieme stasera? Esca, vieni, pregiati. Non credo che sia una buona idea. Voglio entrare nel K-Club e non sorelle dobbiamo stare insieme. Ma, 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 ben detto, la tua r-boscia qui non funziona, garzo. Salute a voi, lì, nella tua lingua materna. È proprio il credito. Per parti bello sei capace di metterti contro il tuo stesso sacco. Papà, ho comprato un regalo per una persona a cui tengo di più. Allora spero che ti piaccia. Papà.